Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti quelli che state guardando questa nuova parte di Urban Chaos e iniziamo con l'autodistruzione missione difficilissima in cui dobbiamo riportare due autobomba dagli artificieri per fare disiniscare sarà un bel macello perché ci sbarreranno la strada in tutti i modi in più è anche a tempo quindi aumenta la difficoltà, aumenta tutto prendiamo un po' di scorciatoie fare prima ok, dovrebbe essere qui dobbiamo cercare di vincolarci ma sarà un bel po' difficile mettiamole giù due, due o tre anche me l'ho rischiata eccoci qua eh, adesso mi sbatto proprio un traprizio ok adesso c'è la seconda ai magazzini andiamo ai magazzini tu che vuoi stare a fondo degli sconti gli sconti bomba eh beh ci mancava colui che mi sparava ma armiamoci anche noi perchè tanto sono tutte armate quindi appena ci vedranno ci spareranno a vista ecco ecco a posto giriamo dall'altra parte perchè ci stanno già per acerchiare a posto bisogna fare diciamo un giro all'inversa ecco nooo shit super shit guardate se mi spari bastardo eh perchè cazzo freni se mi becca un proiettile è finita se mi sbatto è finita se mi metto un pulizzato è finita bellissimo eh dovrebbe essere finita no neanche dobbiamo catturare due terroristi vivi ok dai se non muoio oggi basta ok perchè mi dovete sempre sparare io cosa vi ho fatto eh un terrorista sta venendo contro di me uno me lo arresto attenti per mancare un po' a cacci perchè mi hai fatto sudare sette camicie eh vai oh chi manca? covo delle guardie eh tre ammifici abbandonati vediamo se c'è qualcosa di utile non finisce più questa missione non finisce più questa missione lasciamolo dove va non piace di stare a sparargli a fare vediamo ci potrebbe essere rottami stern what the hell are you up to? we got all day to wait for you to get back here see hai found anything yet? c'è un cazzo quindi c'è della tempra ok armiamoci come poco fa visto che qua c'è un wildcat ora non c'è più condolianza alla famiglia merda adesso per cazzo sono andato a finire in mezzo ai fucili eh ma quasi quasi toh via 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 oh vai farinco adesso dammi anche i fucili va adesso sono i miei adesso sono i cazzi vostri oh forse chi voleva farmi scoppiare con l'autobomba? ecco ecco la tua ricompensa ti ha separato una fucilata dai tanto la gente fugge nei miei momenti di rabbia ok andiamo alla sergente c'è la macchina e lì c'è la sergente trovate niente? no potete appena in polvere le vecchie lo stanno in metallo sta spiegando che probabilmente non sono solo degli delinquenti ma la sergente non ci crede livello completato non è stato così facile ma dopo tutto non mi avrei scelto un gioco semplicissimo per l'affare se no dove sarebbe stata la difficoltà intanto salviamo la prossima missione sarà giardini in fiamme e sono in un'altra parte della città ma questo nella prossima parte bye bye da Darkme ciao